bello a tutti poi grandi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua di nuovo su pokémon platino crazylock ci siamo lasciati qua per andare da ora aspetta ok da il capo palestra che qua sotto la squadra dovrebbe essere rimasta come prima cioè non ci sono cambiamenti e se sentite il temporale bene intanto prendiamo questa foto perché è bello puro non so che cos'è vabbè e andiamo giù aspetta qua ci sono i temporali prima non c'erano ora hanno iniziato ora proprio uuuh ursaring già posso fare questa cattura ma l'ho dimenticato va tenere lo scorso episodio ho preso le foto e poi non ho catturato niente perchè sono ancora roma eeeh che faccio però sarà che non lo manda a catturare uuuh brutto catturiamolo pokeball eccola eccola attenzione attenzione 1 2 3 e non è ora facciamo così perchè mi sono rotto ok ursaring è stato preso di tipo terra beh no vediamo ursaring non so se metterlo o no quindi per ora per ora uuuh cazzo cazzino cioè oh mio dio ursaring è una mi sa che è forte molto tanto ah poi l'attacco speciale di drausi è veramente fortissimo è una merda è una merda è una merda ehm abilità clorofilla aumenta la velocità del povero ma se c'è il sole va bene eh vai c'è la c'è la c'è la difensiva attacco speciale mi dà non c'è niente di attacco speciale vabbè per ora non si sa perchè ci sono anche altre due zone che possiamo tossic sfera ma che è vabbè eccolo qua il capo palestra abbiamo dato che possiamo eh cascun preferivo forse più un cascun perchè se rievolveva non so questo qui no non lo volevo perchè mi sta un po' sul eh quando parliamo col capo palestra ho esposto si stai a guardare usata non so se si chiama sempre eh Pedro oh ha cambiato anche il nome eh vabbè abbiamo visto intanto bacca baba ok vabbè ritorniamo indietro ehi alfarus se trovo con lui forse lo accettavo di più però va benissimo anche ursaling se non trovo niente di buono eh andiamo di qua ci sono altre zone ovviamente stiamo andando qua c'è guardiamo attenzione guardiamo buono non mi cioè non ho mai preso glemia o poi curarli però guardiamo se non lo uccidiamo ok privazione pokeball non posso indebolire con orsaling però è rischioso se non lancia fiamme però beh no non fa neanche un tocco ok catturato vabbè anche lui terra tutte terra un altro pokemon eh perché non si è venuto prima no veramente drapeon non lo mettevo subito non ho mai avuto un drapeon nella mia squadra e me sto pentendo cioè secondo me è forte voi pensate come volevo ora c'ho tipo non so se metterle ancora nella barra quindi non me lo chiedete nei commenti anzi me lo avete anche chiesto infatti poi dite voi perché non c'è questo lì il pokemon ecco qua non era venuto proprio niente che fuori di merda vediamo pori con 2 attenzione oh pori con 2 però è interessante no veramente ecco ora ve lo uccido no veneno cron no veramente pori con 2 mi sa che scelgo pori con 2 infatti lo giocato ghiaccio elettro oh mio dio no veramente pori con 2 secondo me tanfo questo questo tanfo viene tiene lontani il pokemon conservato vabbè un po' brutto incubo incubo ripreso canto veneno cron incubo se non hai ah però canto allora è interessante eh perché ho canto quindi incubo poi veneno cron ah voglio vedere attacco fisico sì va bene perfetto io vorrei tenere pori con 2 perché secondo me ci sta dai pori con 2 tanto ricuriamo di nuovo i pokemon depositiamo ursaring ora dovrebbe venire nella barra pori con 2 ecco ovviamente quando mi muore un po' non potrei mettere ursaring posso mettere lui ora ho già 4 pokemon cioè per ora ovviamente poi con 2 forse lo allenerò off camera perché ora andremo alla palestra perché si ora non c'è più dorf né roba i coglioni e c'ho drowsy prima vabbè mettiamo drowsy da solo extra rapido però speriamo che quando si evolve ah però l'ho visto sulla wiki ma ne sono dimenticato vabbè però era 20 e qualcosa 20 e preciso perché ho evitato di fare il giro largo però tanto in questo episodio non dovrebbe evolversi drowsy quindi non c'è rage eyes cazzo diciamo di nuovo legendario extra rapido non gli faccio niente mi sa che è inefficace allora stancho spendi foglia no glielo raggio ah allora ok drowsy al 13 e non impara niente perfetto allora cambiamo costanza secondo me stanchi fuori probabilmente poi si evolve quindi speriamo che ci vedrà ci verrà un bel pokemon duck trio tendi foglia speriamo il giro non ci fa niente non è molto efficace il giro raggio proviamo oh tutto super efficace ho 14 stanchi nube ho visto aspetta non sono sicura è nube no blocca nube mettiamo drowsy proviamo a drowsy fammi vedere il tuo extras rapido extras comunque dico extreme speed vai vai con il tuo extreme speed vai l'ho già visto che non è molto efficace però l'ho usato lo stesso vabbè usiamo stanchi aspetta ci ho delle posioni dimmi che ci ho già delle posioni siamo contro pedro ora vai salve questa è la palestra di minero io sono pedro ok non ha cambiato nome meno male io sono pedro il capo palestra non sono altro che un allenatore che ha dedicato la propria vita ai pokemon di tipo roccio il mio compito di capo palestra è valutare il tuo potenziale di allenatore e quindi dovrò mettere alla prova i pokemon che lottano con te benissimo siamo contro pedro ascoltate la canzoncina mentre io sto zitto in due secondi sto zitto sta veramente ok basta canzoncina ho visto che è super efficace oh il geloraggio è super ma guarda il geloraggio secondo me è super efficace cosa faccio sub ah c'è super efficace c'è la flore pezzo allora allora ehm delibere tanto l'acqua non dovrebbe non era ghiaccio acqua delibere ora mi viene questo ah no accioio tra ghiaccio acqua vabbè non dovrebbe vabbè non mi c'è un po' star oh super efficace grande delibere migliore 16 delibere non ne impara niente cacnea vai stanchi deve cioè stanchi secondo me sì penso di sì perché ti faccio gelo raggio brutto colpo l'ho congelato madonna ti faccio il ritorno per finire no ho sbagliato mossa sono sempre sono gelo raggio muori quindi ci stanchi non impara niente va bene è imbarazzante ho perso conto un allenatore che non aveva non aveva neppure una medaglia così è la vita tu sei forti io se lo devo mi spiace sì ora mi dà la parte oh sì la mt dimmi che buona ora mi dice 76 ora mi dice la vita roccia ma non è la vita roccia non dovrebbe essere poi è la vita roccia luce lunare na merda però c'ho spaccaroccia potrei fare imparare spaccaroccia però spaccaroccia che poi devo fare di imparare un po' con spaccaroccia ora che ci penso mi sa che è Danny mi sa che è lui se non impara è che io tra un poco ora ora vedremo guarda ah intanto quanti pokeball ho perché ora ora guarda ah no non mi servono le pokeball ah boom oh wow basta con questo wow perché me lo ricordo sempre wow hai preso la medaglia secondo tanto tra non lo so qualche episodio quindi andiamo ritorniamo indietro per andare avanti non lo so no va bene intanto mettiamo drausi fuori con due stai tranquillo che ti alleno quindi stai tranquillo allora ritorniamo indietro qua avevamo già fatto le fatture ok è bell'occhio eh dimmi un po' hai già ottenuto un blocco amici? no se non sbaglio dovrebbe essere gratis per chi visa il piano inferiore del centro pokemon ah ok vabbè per ora non ci andiamo a prenderlo quindi però voglio vedere quando avevamo visto dei pokemon 4 vabbè vabbè intanto andiamo come avete visto vabbè non dico niente uomo misterioso molto bene professor rowan se farà quello che le diciamo non ci saranno problemi ah sì sì sapete già sono i cattivi non è lo spoiler state tranquilli quindi quindi sì è il team galassia è il team galassia e basta fine infatti ha detto team galassia ok host del team galassia due secondi anche questi ve le concede ok bat extreme speed geoforza vabbè vabbè ho visto la parola pensavo che mi ha colpito me dimmi che ha altri pokemon lusinda non c'è altri pokemon ora mi attacchino solo a me che pezzo di merda ok 14 drausi c'è l'ultimo non ce la farà male quindi cambiamo mettiamo mi fa geoforza però e provo anche a deri per delficare è super efficace quindi vai stanchi però ok qua ho fatto di mettiamocelo raggio se è super efficace mi fa mi fa mi fa mi fa mi fa ok ok morto ok vinto contro le reclute del team galassia recluta 1 non ci lasciate altra scelta per ora scegliete che dovete fare ma lo facciamo solo perché il team galassia è estremamente generoso si vabbè tutti dicono così non mi da niente non dovete darmi niente quindi se ne vuoi andare a fare ecco avete capito si professore si voglio avere tutte le metaglie della regione di sim si ok che è qui ah si non ricordo oh perfetto fantastico veramente eccezionale scusa io sono di giubilo tv ok mi hai fatto assistere a una lotta straordinaria vorrei darti qualcosa scatola cake perché si va bene lasciamo uscire queste robe si si va bene allora i pokemon non ce l'ha curato ecco pezzi di verde ritorniamo al centro pokemon intanto non taglio voglio tanto 2 secondi tanto veloce che si vada eh guardate come vado rapido spero che porigondù diventa una bestia perché ok possiamo andare avanti e fare una cattura però qua c'era lo strumento vabbè lo facciamo di qua se ok non è capitato di qua guardiamo disvoguscio ma spazio secondo a minieropoli si poteva fare una cosa ha dato cattura uber va bene va bene va bene però lo uccido io ci provo non l'uccidere non l'uccidere tu pezzo di merda draugli vaffanculo non so se si poteva fare già ora aspetta ritorniamo a minieropoli ritorniamo a minieropoli tanto ci sono già arrivato senza arrivato no preferivo fare con 2 meno male qua dov'è dov'è qui ecco esatto qua ecco lui era oh ciao come stai io sui fossili si proprio qui so per faccio riuscire a portare a terra le stagioni di fuori voglio riuscire ma ancora no non era lui era questo ah nel museo non era qui no non era qui ma era qui ma 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 non usavano le stazioni di carbone ma non era qua che prendevano qui intanto questa casa vabbè i fossili però mi sa troppo presto vabbè non lo so o me lo dite voi nei commenti o vabbè lo scopro io non lo so vabbè forse all'inizio non te lo può fare vabbè vabbè ritorniamo avanti prendiamo qua sfidiamo gli allenatori oh un allenatore un po' deboluccio vuoi l'attare ma come fa a sapere che è deboluccio hai medagli hai medagli io ne ho una parte la svela di Sandrina Pupa sì Whiskash extreme speed vai no pugno d'ombra non mi fai niente se era fisica allora mi potevi fare qualcosa ma è fisico ah no ho già il mio attaccante è attaccante speciale che fa schifo me lo so dimenticato intanto devo ricolorare i pokemon perché drausia su all extreme speed semmai facciamo una cosa spaccaroccio lo impara aspetta un secondo no 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 non è finita qua aspetta no non li faccio ancora imparare perché tra qualche minuto lo faccio imparare un no perché devo decidere perché c'è un altro luogo che avete capito perché se andate avanti no se andate avanti qua in su troverete una grotta che penso oh latias latios volevo dire extreme speed sull'atios acqua di sale extreme speed sull'atios di nuovo extreme speed di nuovo e muore e va da qui perfetto ti impara smog almeno almeno è smog sostituire io l'avevo sostituto perché mi fa solo danno secondo me ho capito che mi potrebbe proteggere ma cioè mi protegge però allora mettiamo stanze qua dovrebbe essere ecco allenatrice ciao che ne diresti di una lotta va bene altario però dai dammi l'altario ok ce l'oraggio a questo punto dovrebbe essere oh brutto oh ma questo sta anche una bestia vabbè drausi rimuovo primo intanto dobbiamo catturare ecco cammino roccioso guardiamo se dovrebbe essere un altro eh infatti è un'altra qui possiamo catturare un pokemon safari ball va bene ti cattura con la safari ball guardiamo ecco volbit proprio non me lo potevi fare volbit no no tutti tranne lui mi spiace raga fallita ma volbit proprio non te lo potevo fare spacca roccia sono stanchi no stanchi no devo fare stanchi non c'ho altri percorsi da catturare per forza stanchi se non me lo parrà nessuno ha un problema ne vediamo riduttore dai o ritorno ma ritorno siamo amici di stanchi ok si si vai vai stanchi vai ok possiamo uscire andiamo all'aria aperta luci ok non ci dava niente e drowsy non so se c'è una mossa è ancora di extreme speed vabbè andrò di smog l'ignoranza no c'era due però io vado di smog oh vabbè extreme speed ragazzi mi cazzo extreme speed ok dovrebbe morire grazie al veleno madonna mi trovo suablu smog non mi faccio niente smog oh cacchio pure a seme abbiamo fatto erba un attimo e come la mettiamo psico diciamo dai fanny fold siamo gentili non è vero niente muori ok drowsy stanchi repellente vabbè andiamo avanti lo so che ho drowsy primo non c'ho extreme speed mi fa bene però io ci voglio andare di lo stesso di smog no non ci vado più mi ha fatto il drago furio sbaglio un'idea di perdono di nuovo cazzo mi fa il culo ho visto che mi fa il culo però geloraggio azzeccato drowsy piccio di nuovo geloraggio intanto ho in shot a tutti geloraggio no ho messo drowsy con 5 di vita ok lo riverò subito non ero scordato madonna ho tanto poco non tipo dovrebbero essere tipo acqua non lo so geloraggio ma su meribane mi sembra più un minaccioso fate morte leggimente boschisfera fendipolda però da resistere almeno di nuovo qua che cosa c'è? oh qua l'ho nuovo percorso ancora non è possibile mi spiace però devo farlo mimica ecco mimica speriamo che lo impara almeno cosa non impara allora allora sei un po' stronghi ok andiamo a curare i pokemon qua al centro dove lo cura i pokemon secondo me vabbè eeeh si quindi ragazzi questo video finisce qua spero che vi sia piaciuto mi dispiace se è durato un po' meno rispetto agli altri o uguale ora non lo so perché non lo so però se il video vi è piaciuto ragazzi mettete pollicione in su iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto pagina in descrizione e noi ragazzi ci vediamo con un prossimo video bye bye